... ... Qua non passa nessuno, anche i residenti, a meno che il residente non ti dice guarda L'unico blocco totale sarà, se vi chiamano e vi dicono, non fa passare nessuno Qualcuno ferma tutti, gli chiedi cortesemente al residente di Fermassa, aspetta Vabbè, ma c'è la verità Quanti ti sono dati? Quattro? E uno dietro lui in macchina che te Prevediamo che all'ingresso delle varie vie ci sia un po' di... tra curiosi e persone interessate all'evento ci sia un pochettino di macello Faccio l'attacco, l'attacco, l'attacco al cellulare Rifaccio? Sì, grazie Anzi, mi ha anche ringraziato, ieri mi hanno mandato, lui e Kate, un bellissimo mazzo di fiori con un bigliettino, quindi sono molto felice, il bigliettino chiaramente mi ringraziava diceva di essere fiero, di sposarsi e bracciano, quindi ormai lo possiamo dire perché la giornata è partita Sì, grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E ho spero che ci sono venuti in più Non ci sono per molto tempo Grazie 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 a tutti